La tecnologia non solo può essere alleata dello sviluppo sostenibile, ma deve essere veramente la protagonista del movimento che porta allo sviluppo sostenibile. Senza la scienza e la tecnologia non facciamo più niente, non possiamo tornare indietro alle caverne, dobbiamo andare avanti, ma andando avanti dobbiamo arrivare a sostenere il rapporto con la natura. Quindi è la scienza e la tecnologia che devono prendere l'incarico di viaggiare verso un futuro che unisce gli esseri umani alla natura e alla tecnologia, che fa un tutt'uno dell'umano, del naturale e del tecnologico. Grazie